Concluse le vacanze di Ferragosto, a Borgo Virgilio stanno riaprendo i vari cantieri dislocati sul territorio. In questi giorni i tecnici del comune hanno eseguito un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento delle opere, consegnando poi la relazione al sindaco Francesco Apporti. Verranno ultimate la motonda tra via Calvi e via Fratelli Cervi e riprendevano anche in cantieri il cantiere sull'edificio municipale. Tra i primi interventi conclusi, la sostituzione dei marmi ammalorati che compongono piazza Aldomoro, quella che affianca il municipio e che ospita concerti e commedie, entro la fine del mese sarà invece terminata la rotonda di via Fratelli Cervi all'intersezione con via Calvi. Un piccolo ritardo rispetto al programma iniziale, non dipeso dal comune, ma dalla lentezza con cui sono stati consegnati i marmi che devono essere sistemati nello spartitraffico al centro dell'incrocio. Altro intervento importante, per il quale l'ente ha stanziato già 100.000 euro, riguarderà nelle prossime settimane via Martelli, dove il rifacimento dei marciapiedi, comporterà il contestuale abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento dell'accesso da via di mezzo. Proprio in questi giorni il sindaco Porti ha comunicato la fine di un'altra importante riqualificazione, il tratto finale di via 25 Aprile, quello posto tra via Rippa e via Grioli. Proprio in questi giorni il sindaco Porti ha comunicato la fine di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte. Proprio in questi giorni è un'altra parte di un'altra parte.